buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dell'argomento del giorno aggiornamento gae e gps gli itp entrano ancora con il semplice diploma prima domanda nuovi inserimenti in gps seconda fascia quali saranno i titoli per accedere i docenti itp cioè gli insegnanti tecnico pratici potranno entrare in gps seconda fascia solo con il diploma e senza la necessità di aver acquisito i 24 cfu entro il 31 ottobre 2022 per la seconda fascia infanzia e primaria invece si entra con iscrizione almeno l'iscrizione al terzo anno della laurea di scienza da formazione primaria ed almeno il conseguimento di 150 cfu per la seconda fascia scuola secondaria di primo e secondo grado serve invece la laurea con i cfu integrati ai sensi del dpr 19 del 2016 e tutte le sue successive modifiche compresa l'ultima modifica del gennaio 2024 che prevede per le classi di concorso a 0 28 ea 0 26 cioè matematica e scienze alle scuole medie e matematica alle scuole superiori una modifica dei delle lauree e dei titoli di accesso domanda numero 2 chi è iscritto al percorso abilitante 60 cfu che si aprirà a breve per una data classe di concorso oppure sta svolgendo il percorso tfa sul sostegno per specializzarsi sul sostegno potrà iscriversi in gps prima fascia ma con riserva sì è prevista appositamente la possibilità di iscrizione alla prima fascia con riserva per coloro che non hanno alla scadenza della domanda di inserimento in gps ancora conseguito l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno la riserva verrà sciolta con una finestra apposita che si aprirà a luglio 2024 terza ed ultima domanda quando saranno scelte le 20 scuole per la composizione delle gradatori di istituto per le supplenze brevi o anche per le supplenze annuali o fino al termine le attività didattiche in caso di esaurimento delle gps si intende o di supplenza per disponibilità intervenuta successivamente al 31 dicembre bene con l'aggiornamento delle gps previsto in aprile 2020 con una durata temporale massima di 20 giorni ci sarà una sezione apposita per la scelta di massimo 20 scuole della stessa provincia di inserimento delle gps per costituire le gradatori di istituto per le supplenze appunto brevi e per quelle diciamo anche meno brevi tipo annuali e fino al termine le attività didattiche quando interverranno o a esaurimento delle gps o per disponibilità intervenute successivamente il 31 dicembre speriamo che le risposte che abbiamo dato a queste domande siano diciamo di soddisfazione per i nostri telespettatori seguitici ancora sui nostri canali social facebook e youtube perché faremo delle dirette apposite proprio su questo argomento ma anche su altri argomenti visto che diciamo il periodo è particolarmente prolifico per i provvedimenti che verranno presi per la scuola a breve arrivederci a tutti grazie a tutti